Questa è una rampa e questa è la mia auto, oggi la distruggeremo Oh mio Dio Un peccardo fortissimo La prima sfida è il lancio a 15 km orari Sto per lanciarmi, sto per fare una delle più grandi c***te della mia vita Attenzione, non replicare queste azioni a casa, noi siamo dei professionisti Fa forte gli scherzi Quando atterri, attacca le mani dal volante Non atterrare con le mani dentro sul volante Prima sfida, 15 km Orari, 3, 2, 1, andiamo Lo sto facendo, lo sto facendo Perché il capitano ha messo immediatamente la prima Sta andando, è una velocità incredibile Lo sto facendo, lo sto facendo, lo sto facendo Oh mio Dio Commissari, commissari Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Ce l'ho fatta E la macchina è ancora accesa Una nuova incredibile Non si capisce più niente Ma guardate in che condizioni esco dalla macchina Il commissario cosa dice, è tutto a posto Ce l'ha fatta Come va? E' lì alto Il capitano sta benissimo Let's go Eh mamma mia Ce l'hai fatta Io sono atterrato Non ho capito niente Le mani sul volante le ho tenute Perché però non stavo ragionando Non stavo ragionando E intanto che aspettiamo il lancio finale a 40 km orari Prende la lampa Guardate la macchina in che condizioni è Oh mio questi non li avevo visti Non li avevo visti Andiamo a vedere davanti la macchina Oh la rampa ha retto E anche la macchina Non me l'ho spettato Vabbè Diciamo che è un po' ha retto Questi sono 500 petardi E nel bagagliaio di questa macchina Ne ho più di 100.000 E l'esplosione che fanno E' più o meno questa Ora immaginatevene Più di 100.000 dentro una macchina Ogni iscritto che farò Andrò a mettere un petardo All'interno di quest'auto E a 500.000 La facciamo saltare in aria Siamo a 274.000 iscritti E oggi ne abbiamo fatti 356 356 esatti Andiamo a posizionare La prima striscia Proprio nel volante A 500.000 Facciamo saltare in aria Più di 100.000 Petardi Iscrivetevi La fuota È così Ma bro hai tirato un fumo Ma bro Oddio Bro è entrato dentro la macchina E per distruggerla al massimo Ho comprato i petardi più potenti Presenti sul mercato Lì Porco Chiudi 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 Ha fatto un saltino Ha fatto un saltino Si è tipo gonfiata In un nanosecondo Bro guarda dentro No cazzo Il mio giubbotto Il mio giubbotto Hai danni dentro però Oddio Non ci sono i danni Cico A questo punto Mi viene in mente Un'idea ancora più geniale Che è la seconda sfida Della giornata Agganciamo I ganzi di ferro In cui legheremo Quest'auto E la mia nuova auto Per vedere Chi tira più forte Che potenza Mamma mia Incredibile A questo agganzate Ci siamo 3 2 1 Spira Oh 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 Lo sto tirando giù Oh 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 Che cosa sta succedendo Lo sto trainando Lo sto trainando Oddio Guarda Ragazzi Vincere Oh Oh Una cazzo Lo sto trainando in giro Oddio Lo sto trainando in giro Lo sto trainando in giro Ragazzi Vince la mia Perché ho un mirandu E quella è un novecento Non sto tirando in giro No, mi sta provando il motore Porco tu Cosa ho fatto? Cosa è successo? Mi si sta accontriando Ad aprire il bagagliato Mi sta trainando raga Oddio, lo traino Lo traino Lo sto trainando Si è girata la macchina Si è girata la macchina Continuo a trainarlo Vediamo quanto ti traino Pronto col freno Madonna ragazzi Non è contento Vuole ancora fare di più 3,2,1 Ogni volta che sento sto rumore Prendo un colpo La temperatura del motore è altissima 20 km orari Aiuto Ma lui sta frenando Ma mi ha incastrato il motore Aspetta Oddio Ma l'ho plegato Oddio Cos'è successo? Cos'è successo? Si è passato il gancio Si è passato il gancio? Ma va bene Va bene Va bene Oh ti ho tirato uno strattore Guarda la faccia Ma porca motore Ragazzi Dobbiamo spegnere questa macchina Perché il salto finale Ha bisogno del motore funzionante Vede la rampa Salto incredibile Ma facciamo saltare in aria quest'auto Con i petardi più potenti sul mercato Allora questa macchina Un problema enorme Il problema È che non si apre E non si chiude Uno Non si apre E non si chiude il finestrino Quindi Lo facciamo esplodere Giusto Mi sembra chiaro no? Perché andare da un concessionario A metterla a posto Quando puoi far esplodere il finestrino? Io blocco l'accesso ai malviventi Si Dici che ho un problema? Così nessuno può rubarla ragazzi Vedete? Queste sono le belle idee Queste sono le belle idee Nessuno ne potrà mai rubarla Oddio Il finestrino è ancora lì È il finestrino indistruttibile questo Proprio È rotto È completamente rotto Ragazzi Il problema del finestrino persiste Quindi Quando c'è questi problemi C'è una sola cosa da fare Lo so che è resistente Oh mio Dio Ma è resistentissimo Cosa? Adesso basta Adesso basta Adesso basta Adesso passo da parte a parte Cosa? Basta È impossibile No ragazzi Cosa è un pole Questi ne erano considerati E ancora manca l'ultimo salto Salto incredibile Ma vediamo se sono più forte Io con un estintore Cacca lui è forte Ho un petardo fortissimo Porto due No ragazzi No ragazzi Mi sta bruciando la macchina Mi sta andando un po' la macchina Oh oh L'ha rotto L'ha rotto Oh 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 Super Bro è una forte È una bomba Ma non è finita qui Perché il prossimo petardo Va direttamente dentro al sedile posteriore Tre Due Oddio No ragazzi No ragazzi No ragazzi Oh sta bruciando Oh cazzo Cosa è volato qui Bro l'ho proprio visto La traiettoria Vediamo qua dentro Ok No 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 Oddio Guarda è tutto bruciato Oh mio dio Oh mio dio Qui si mette il sound effect di una scorreggina è bellissimo Madonna ragazzi ma sta macchina è troppo resistente Bro si è smontato il bancale Mamma mia viene qui Ma posso dire che ha la resistenza del Nokia Ma se io con la mia macchina Da tre volte il prezzo Vado a fare una roba del genere Si distrugge Da personale per Cap Adesso la fine parte Oh Ma c'è che roba Mi sento la bestia per me Ma ora l'esplosione più figa di tutte Vogliamo fare esplosione dell'impianto ster Per vedere se dopo un'esplosione del genere Funzionano ancora Oh cazzo No Stiamo per far saltare Il disco mai sono io Cazzo Aspetta tardino qui Ragazzuoli mi serve l'accensione Accensione Questa mi fa una botta assurda Questa mi fa una botta incredibile Oddio guarda il fumo Guarda il fumo Oh cazzo ragazzi è volato via qualcosa dall'altra parte della macchina Dov'è? Questo è volato Un pezzo di portiera raga Ma come? È un pezzo di portiera Oddio 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 Porca Ma Radio Maria non conta Quella prenderebbe anche sulla luna Funziona Ma finalmente È arrivato il momento del test finale Della rampa A 40 km orari Oh mio dio Io ragazzi questa volta ho paura che scoppino i airbag Tutte le cose che possono andare male Possono andare male Ma che cazzo di discorso è? Chiudere la visiera Prima dentro 3 2 1 Andiamo Fortezza al massimo Prende la rampa Prende la rampa Saldo Il pilantino Tutto a posto? Eh insomma Oddio guarda il cambio È volato il cambio È volato il cambio Aspetta fammi la cintura Porca Tutto a posto? Eh a posto Però stavolta l'ho sentito la botta E dopo questa botta è incredibile L'auto si sarà distrutta? Ma oddio vabbè È una macchina inesistente raga È una macchina inesistente Non c'è più niente Oh mio dio Non c'è Non si è scalato Porca Ma gli airbag? Non vanno Ma facciamo gli airbag? Ma facciamo gli esplodere Sti airbag del cat? Come si fa? Che cosa è quella lì sotto? Cosa? C'è qualcosa sotto E quello non è l'unico pezzo della macchina Che non è al suo posto No è un pezziniano della ruota sicuro Ma prima di finire L'auto Si accenderà ancora? Vediamo un po' Si accende ancora Com'è possibile? Non c'è il motore Sicuramente non c'è più il motore